Noi oggi commemoriamo l'uccisione, ma meglio il sacrificio, del carabiniere Antonino Civinini, medaglia d'argento al valore militare che 32 anni fa ha perso la vita qui a Vibo Valencia. Antonino Civinini è un figlio adottivo di Vibo Valencia perché ha speso tanti anni, ha speso la sua giovinezza al servizio di questa terra e di questa cittadinanza. E nel momento in cui era ormai prossimo al trasferimento nella sua terra di adozione, la Sicilia, dove vivevano i suoi genitori adottivi, lui era un orfano originario della Puglia, ha perso la vita in un attimo, un attimo fatto di un gesto di generosità, di alturismo e di coraggio. E come dicevo prima, è lo stesso coraggio che spinge i nostri carabinieri, che ha spinto i carabinieri che oggi sono qui vicino a me, oggi sono in congedo, ma allora erano in servizio a intervenire in situazioni di rischio, in situazioni di pericolo. E dove talvolta, non il fatto, ma la scelta consapevole del destino, di un destino, porta a rimanere feriti e talvolta a perdere la vita come Antonino. Abbiamo voluto ricordare Antonino Civinini qui, che è il luogo dove ha perso la vita, ma che è anche il piazzale di una scuola importante di Vibo Valencia, il liceo artistico, i cui studenti hanno voluto commemorare, secondo il loro sentire contemporaneo, con un'opera semplice, fatta di materiale semplice, come la semplice la vita di un carabiniere, il suo coraggio, il suo altruismo e perpetrarne così il ricordo.